Sanremo l'anno, perché Sanremo è Sanremo Cari telespettatori di Melito TV, siamo con Alessio Bernabei Buongiorno, buonasera, in questo momento che cosa siamo? In quale parte, in quale giornata? Non so quello che mi succede intorno, io girovago così come una medusa No vabbè, siamo a Sanremo, siamo a Sanremo Accanto alla sala Lucio Dalla, bellissimo nome E ho appena fatto una conferenza stampa E adesso ci troviamo qui, qualche domanda gliela facciamo In particolare, io faccio una cosa, ieri un look Ah no, ieri la tua esibizione è un look un po' particolare senza calze Sì, ragazzi, mi piace stare fresco ai piedi No, lo smoking senza calze mi ha sempre affascinato E ho voluto portare quello e sono fiero di questo Adesso parliamo con la musica, tre anni, una grande crescita Tanti altri progetti che stanno per arrivare Esce fuori quella che è la parte di te, di uomo, di artista Quello che vuole arrivare al pubblico E l'Alessio Bernabei che vuole raccontare che cosa in particolare Togliendo quello che è stato il passato Si riparte da qui per dare un volto diciamo più forte Ancora più vero Sì, diciamo che quest'anno ho deciso di essere molto più me stesso Con il tempo ho aumentato più consapevolezza Magari sono anche cresciuto E sono, riesco ad essere più me stesso Meno impostato, meno con la maschera E forse dal pubblico verrà apprezzata questa cosa Di essere se stessi Per un artista secondo me è fondamentale E soprattutto di essere di più di un bel ragazzo Ma che può raccontare una certa profondità della musica italiana E quindi essere il prossimo grande artista e star del futuro Magari, ci metterei una bella firma Il mio sogno è quello, durare sempre il più possibile Stando a contatto con la musica a 360 gradi E fare il lavoro più bello del mondo Perché questo è il lavoro più bello del mondo Pian piano crescere, crescere, crescere E sempre di più imparare le cose belle della vita Noi ti ringraziamo, un saluto ai nostri telespettatori di Melito TV Un grande saluto ai telespettatori di Melito TV Da Alessio Bernabei Vi voglio bene Grazie Grazie a tutti